Un posto al sole, puntate marzo, Roberto un passo importante nei confronti di Lara. Da non perdere le puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel mese di marzo su Rai 3. Le anticipazioni si concentrano sulla difficile situazione che vede Roberto intrappolato nella rete di Lara, che sta usando il bambino per portarlo dalla sua parte. Il suo piano è chiaro e si sta definendo in modo sempre più articolato, fare leva sui sentimenti di Ferri riguardo il figlio Tommaso e, nello stesso tempo, farlo cedere usando le sue arti seduttive, così che Marina lo lasci. La furba Martinelli guadagnerà terreno, tanto che Roberto farà un passo molto importante nei suoi confronti. Nel frattempo, Viola si accorgerà di amare Damiano dopo che sarà tra la vita e la morte in seguito a un ride della polizia. Verrà quindi il tempo di prendere una decisione definitiva riguardo la sua vita sentimentale ed Eugenio. Che verrà messo al corrente dei sentimenti di Viola nei confronti di Damiano. Inoltre, Silvia si avvicinerà a Michele, mentre Giancarlo perderà progressivamente importanza nella sua vita. Nelle prossime puntate di Un posto al sole che verranno mandate in onda su Rai 3 nel mese di marzo. Damiano verrà ferito gravemente durante un ride della polizia. Le sue condizioni saranno molto gravi e la sola idea di poterlo perdere farà capire a Viola di essere innamorata di lui. Stando alle anticipazioni, Viola dirà tutto a Eugenio, che verrà messo al corrente dei sentimenti che prova nei confronti di Damiano. Tuttavia, la sua reazione spiazzerà a Viola, che sarà sul punto di prendere una decisione definitiva sul suo futuro, lascerà Eugenio per Damiano. Continuando con le nuove anticipazioni di Un posto al sole, vedremo Ferri in grande difficoltà. Lara sa quali sono i suoi punti deboli e li toccherà per portarlo dalla sua parte. La perfida Martinelli continuerà a usare il bambino per far sentire in colpa Roberto che, a grande sorpresa, farà un gesto importante nei confronti di Lara che destabilizzeranno un poco Marina. Nei nuovi episodi della S.O.P., Silvia troverà conforto tra le braccia di Michele, che le starà vicino sia per la recente perdita della madre Teresa che per gli affari disastrosi al caffè Vulcano. Silvia non si fida più di Giancarlo, e sembra che si allontanerà ancora di più da lui. Capendo di non essere la donna adatta a lui, i fan di Upa sperano che ci sia un ritorno di fiamma tra Michele e Silvia. Una delle coppie più amate di Un posto al sole. Otello, per la gioia dei suoi amici, deciderà di rimanere a Napoli, circondato dal loro affetto dopo la dipartita della dorata Teresina. Grazie a tutti.